Le novità offerte dalle moderne tecnologie vanno come sempre prima comunicate e poi provate e metabolizzate per diventare di uso comune e il comune in questo caso di Valdagno a proporre la nuova modalità per il rilascio di certificazioni, una vasta gamma di documentazione grazie alla digitalizzazione dei servizi che un po' in tutto il Veneto sta compiendo passi da giganti. Da lunedì 1 febbraio i residenti e utenti valdagnesi possono in pratica consultare il sito istituzionale per richiedere e ottenere certificati di nascita a residenza solo per fare degli esempi direttamente da casa o dal posto di lavoro in maniera veloce e sicura attraverso l'autenticazione di identità che si ottiene preventivamente con qualche clic. A spiegare l'implementazione del servizio migliorato e sicuro e già collaudato in altri comuni vicentini è una nota dell'amministrazione comunale inoltrata alla vigilia dello sblocco degli accessi via internet. Ma in questa direzione è la novità che dal 1 febbraio riguarda in particolare il lavoro compiuto dai dipendenti che lavorano nei servizi demografici. Accedendo all'area servizio online disponibile sul sito web del comune si potranno scaricare e stampare certificati anagrafici, autocertificazioni, documenti e rilasciati rispettano tutti i requisiti della validità legale.